per spiegare la regola di vita riporto un esempio che tra l'altro descrivo nel libro ho un'amica giovane di cui mi colpisce molto la serietà e la fedeltà a tempi di preghiera personale e di lettura meditativa della bibbia due ore al giorno dedica ora questa amica che è religiosa da 15 anni entrata giovanissima nella vita religiosa è dovuta andare nel suo paese per due tre mesi a causa della malattia di un parente che aveva bisogno di assistenza e al suo ritorno mi ha fatto questa confidenza ho faticato a mantenere la fedeltà alla preghiera e in diverse giornate mi sono trovata a dedicare un decimo del tempo che dedico o dedicavo solitamente non è che mancava il tempo ma la mancanza di una regola di un ritmo mi rendeva la preghiera difficile ecco se una persona che per tanti anni si è applicata così si trova in difficoltà quanto più una persona non molto allenata nella vita spirituale questa confidenza dell'amica tra l'altro mi ha riportato in mente una espressione di una biografia di san charbel mahlufi il santo libanese che quando l'alessi mi aveva un po irritato perché diceva il monaco che rientra a casa dovrebbe ripetere il noviziato mi sono detto questa è un'espressione enigmatica e datata ma con il tempo e l'episodio di questa mia amica mi ha fatto capire il senso di questa indicazione espressa con la durezza tipica della retorica semitica charbel vedeva concretamente che il monaco ma possiamo dire anche il cristiano che esce dal ritmo della sua vita che non crea un ritmo nella sua vita ha bisogno di ricominciare fa molta fatica a vivere una stabilità spirituale ha bisogno di sforzarsi non per recuperare l'abito ma per recuperare l'abitus l'abitudine il ritmo di un'esistenza costruita intorno a dio intorno al servizio quindi chi vuole vivere una vita spirituale sana questo il senso della regola di vita deve scegliere alcuni elementi che diventano delle custodie per la sua esistenza il principio dietro è semplice la vita spirituale non si riduce né al contesto né alla regola esterna ma siccome siamo esseri fragili la vita spirituale ha bisogno dei suoi ritmi dei suoi tempi dei suoi rituali e dei suoi spazi quindi se senza farsi una schiavitù senza imprigionarsi in un sistema rigido va capito che bisogna darsi dei tempi e degli spazi particolari e ognuno trova il suo tempo il suo spazio chiudo per per sintetizzare il concetto con un'affermazione bella di san john henry newman che dice dio fa cose grandi con metodi ordinari cioè le cose grandi che dio vuole fare nella nostra vita sì sono cose immense ma sono ritmate da cose piccole da assi piccoli che fanno girare queste grandi costellazioni e infatti un antico detto di san bernardo diceva custodisci la regola e la regola ti custodirà trova un ritmo in cui ti dedica alla preghiera ti dedica alla lettura spirituale ti dedica anche alla conversazione con amici spirituali che sono cruciali per la vita spirituale e con questa piccola regola di vita la tua vita spirituale sarà custodita e ben ritrovata